Weee che cactus fai! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear the dream? Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia mamma mia grandissima giornata quella di oggi per quello che riguarda il nostro Fortnite Come sapete alle ore 18 ci saranno le prime qualificazioni per la World Cup Io ci sarò e vi aspetto anche a voi mi raccomando Ma nel video di oggi ragazzi parleremo anche finalmente di quello che sta per succedere a sponde del saccheggio C'è una teoria ragazzi che sta prendendo piede sempre di più sia su Reddit che sui vari forum dedicati a Fortnite nella community mondiale e ve la esporrò E ovviamente un'altra cosa super interessante Stato scoperto un drone ragazzi C'è qualcosa di particolare nei file di gioco che non è ben chiaro Ve lo farò vedere ovviamente in anteprima Voglio però prima ringraziare tutti voi ragazzi che ogni giorno seguite il canale e che utilizzate il mio codice creator XIUDERONE Grazie di cuore per il mega supporto Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima però ragazzi prima del video la domandina raga ve la devo fare che ci tengo un sacco ai vostri commenti qua sotto Nella domandina ed è una domanda che non vi ho mai fatto Qual è la skin peggiore di questa season? Forza ragazzi abbiamo visto qualche giorno fa la skin più bella Io avevo votato il cuore nero ma secondo voi la più brutta in assoluto qual è? Io non ho dubbi ragazzi ed è una coppia di skin Non è una sola e sono proprio loro due ragazzi I palloncini non mi ricordo neanche più come si chiamino ma penso che siano veramente momentaneamente Le skin più orrende mai create per questa season di Fortnite Ditemi secondo voi qual è la vostra skin peggiore qua sotto nei commenti Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance siamo pronti ragazzi Siamo pronti da poche ore Sta succedendo qualcosa a sponde del saccheggio Lo vedete in questa immagine panoramica le ruspe ragazzi sono là tutte in fila tipo battaglione Ce ne sono tantissime 5 davanti 3 qua sopra e anche una là in fondo 9 ruspe ragazzi pronte a scavare di prepotenza per fare chissà che cosa Non sappiamo ragazzi ancora il perché questi scavi siano stati fatti nella mappa di Fortnite Guardiamo intanto queste diapositive sono davvero molto molto paurose da vedere così le ruspe perché sono proprio pronte Oramai si capisce che cominceranno a scavare qua ma ovviamente La domanda che la community ha cominciato a porsi è Non è che se le ruspe cominciano a scavare Torna lui ragazzi C'è il problema del Kevin ragazzi per chi ha vissuto l'evento quello delle farfalle Quell'evento un po' astratto che ha catapultato tutti i player in una dimensione ultraterrena Andando poi a toccare dai ve lo ricordate sicuramente tutti che fluttuavamo a mezz'aria Beh noi sappiamo che sponde del saccheggio ha ancora al suo centro i frammenti di Kevin Quindi la pace era riuscita a tornare nella mappa di Fortnite se volessimo seguire la storyline ufficiale E c'è veramente il grande dubbio che le ruspe scavando possano risvegliare ciò che non era buono nel nostro Fortnite Quindi appunto Kevin è tutto quello che ne consegue ovviamente risvegliandolo Appena ragazzi saprò qualcosa di più visto che nessuno sa ovviamente cosa può succedere Lo saprete certamente anche voi Tanta tanta roba Ma andiamo avanti ed eccolo qua l'evento di oggi alle ore 18 Per tutti quelli che hanno ottenuto 300 punti nella modalità arena E quindi sono arrivati alla divisione numero 7 È stata data la possibilità di partecipare alla prima sessione di qualifiche Che inizieranno alle 18 e termineranno alle 21 Molto velocemente ragazzi vi ricordo che potremo giocare massimo 10 match E che ogni match ha delle regole ben precise Vi ricordo 3 punti per una top 25 2 punti per una top 15 E 2 punti per una top 5 Ogni kill un punto E una vittoria reale 3 punti La cosa interessante come del resto In tutte le fasi di qualifiche di qualsiasi torneo È che non si perdono punti giocando le partite Quindi non c'è il biglietto dell'autobus E vi ricordo che i primi 3000 giocatori della divisione Quindi di ogni server Passeranno alla fase numero 2 Che si terrà domani Quindi domenica Sempre allo stesso orario Ovviamente ragazzi Un bel in culo la balena A tutti voi A me non piace dire bocca al lupo In culo la balena A tutti voi Che possiate ovviamente fare più punti possibili E quindi accedere alla fase successiva Ma andiamo avanti ragazzi E c'è un'altra novità Che non abbiamo ancora visto Nei file di gioco Queste due nuove emote Presenti ma ancora non rilasciate C'è un'immagine molto interessante Qua ragazzi siamo proprio nei render delle skin E vediamo come la skin è in movimento Ma voglio farvi vedere di più ragazzi Perché abbiamo qualcosa di extra Un filmato In anteprima Delle skin All'opera Eccole qua ragazzi I balletti Delle due nuove skin Mostrate poco fa Li possiamo vedere Questo è un Non lo so Una specie di balletto Molto interessante Anche del resto Non molto lungo Non posso E non voglio farvi sentire la musica Per evitare qualsiasi problema Sapete che E' meglio sempre andarci con i piedi di piombo Ma non è l'unico Ve lo ricordate Ce ne sono due Questo è il primo Vediamo se riusciamo ad arrivare subito anche Al secondo balletto Che secondo me È un pochettino più carino di questo Dovrebbe arrivare E la misera Quanto Quanto balla Questo qua Sembra un ballerino del tip tap Ce la faremo Guardate che ce la faremo Guardate che ce la faremo Ragazzi Eccolo qua ragazzi La tizia Minchia tutta Minchia tutta Mi piace questo qua Mi piace molto di balletto ragazzi Non è male Non è male Comunque due nuovi balli Che ancora Non erano stati Rilasciati Ufficialmente Adesso col culo che c'ho io Lo troviamo stanotte Nello shop Sicuro Cioè nello shop Quello che è uscito oggi Sicuro c'è il Uno dei due balletti Comunque una curiosità in più Che ci tenevo a farvi vedere Appunto per tenervi sempre Aggiornati Ma voglio chiudere con qualcosa Di davvero super Super interessante Sempre cercando Nei file di gioco Un leakers Appescato queste stringhe Di codice ragazzi Export type Text block And Zebulun drone Che diamine è Lo Zebulun drone Questa è una cosa Incredibile Potrebbe ragazzi Essere La primissima Parte Di un possibile Drone Ovviamente Teleguidato Vi ricordate Ragazzi Che qualcosa di simile Già esiste Su fortnite Sto ovviamente Parlando Dei missili Quelli che hanno Partecipato Alla battle royale Per un paio di Per una stagione Quasi totale Poi sono stati Riproposti Rilevati E adesso Tenuti Solo nel parco giochi E nella modalità creativa Ma questo ragazzi È qualcosa di molto Molto più Interessante Potrebbe a quanto Mi può Venire in mente Essere un drone Comandato da distanza Che può sparare Ci potrebbe stare Come idea Per il momento Non si sa Altro Siete i primi Anche voi Ovviamente A saperlo Potrebbe anche essere Qualcosa di Save the world Non lo sappiamo Ma io ve lo dico Come sempre Per darvi Tutte le notizie Bene e fresche Vi ringrazio tantissimo Ragazzi Per aver guardato Anche oggi Questo video Mi raccomando Ricordate che Non c'è la live Alle 13 Ma noi Ci vediamo Alle 18 Con le qualifiche Ciao